Apriamo il primo salotto radiofonico, ne avremo diversi in questa giornata. Sono contento di avere con noi il collega del Roma, l'amico Giovanni Scotto. Ciao Giova, buongiorno. Buongiorno. Ciao Marco, buongiorno. Buongiorno a te Sonia. Collega del Roma e anche di TV Luna, chiaramente. E con noi anche l'agente di Marekamsik, Urai Venglos. Urai, good morning. Good morning. Good morning. How are you, Urai? Very good, thank you. Ok, gli abbiamo chiesto semplicemente come sta la sua risposta. E che sta molto bene, Giovanni, chiaramente ti lasceremo tutto lo spazio che vuoi per parlare con Urai, come sempre facciamo in queste circostanze. Usami tranquillamente come traduttore. Parto io con una domanda anche abbastanza scontata, però doverosa, per capire un po' come sta il Napoli. Abbiamo anche letto questa ricostruzione di Repubblica, abbiamo letto attraverso il Corriere dello Sport di una cena che c'è stata ieri sera per ricompattare il gruppo. Ma come sta Marekamsik? Lo chiedo subito a Urai Venglos. Qual è stata la sua reazione dopo la sconfitta di Liverpool? Urai, come è Marek dopo la sconfitta di Liverpool? Quale era la sua reazione contro questa sconfitta? No, non posso capire molto bene, ma se ho capito, non ho parlato con Marek dopo la sconfitta. Non ho capito, ma ho visto la sconfitta. E lo che ho visto è che ha giocato bene, non ha giocato una sconfitta di una sconfitta. So, it was a difficoltà, perché Liverpool aveva presso la sconfitta molto, e in mio opinion, Marek ha giocato una buona sconfitta, non una buona sconfitta. Ma è normale, è normale quando la squadra non va alla sconfitta della sconfitta, quindi hanno iniziato l'attaccia, alcuni giocatori. Ma non penso che Marek sia giocato. È completamente diverso, Marek si giocato molto bene. Ok, traduco, anche perché da tanti anni, Giovanni lo sai anche tu, parliamo un po' tutti quanti con Juraj, è difficile sentirlo irritato. Oggi invece lo stiamo sentendo un po' irritato. Allora, Marek sta bene, non ho parlato direttamente con lui dopo la partita. Sappiamo quello che è successo, però ho letto anche un po' i giornali. Francamente c'è un po' di amarezza nell'aver letto che è stato il peggiore contro il Liverpool. Dal punto di vista di Juraj Wenglos, il calciatore ha giocato molto bene. È stata una buona partita, molto buona. La sua non si tiene conto di quello che significa la pressione del Liverpool in campo. Non è stato assolutamente il peggiore. Non penso che sia giusto che Marek venga criticato in questo modo, visto l'avversario che si è affrontato. Queste sono un po' anche le idee di Juraj Wenglos. Io, Giovanni, ti chiedo prima di tutto un parere e poi chiaramente una domanda da rivolgere a Juraj. Sì, allora, io devo dire la verità, sono d'accordo con Juraj. Hamzik per me non è stato il peggiore in campo. Forse l'inizio non mi è piaciuto, ha sbagliato qualche appoggio. L'inizio gara forse è stato un po' deludente, però poi secondo me si è ripreso. Nel secondo tempo ha fatto girare la squadra, quindi per me è una prova sufficiente. Però voglio chiedere a Juraj secondo lui perché tante critiche vengono indirizzate proprio ad Hamzik che poi magari nella partita precedente invece viene considerato un giocatore insostituibile per questa squadra. Juraj, mio collega Giovanni Scotto ha chiesto, perché in vostra opinione ci sono molte critiche per Marek contro la sua performance nel match prima del match con Atalanta. È stato appologizzato dalla media. Quindi, perché in vostra opinione è stato criticato tanto dopo questo match? Non lo so. 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 Come lo so. E ha presso un po' di più. Non lo so. Non lo so. Ma perché le critiche... Non lo so. Perché non lo so. Ma non lo so. Ma hanno qualche razza che non lo so. Non lo so. Ok. Un po' per la traduzione. allora Giovanni la risposta è stata abbastanza anche in questo caso piccata, non è facile raccogliere uno sfogo così pesante da parte di Juraj Venglos, io francamente non lo so è come se non ci si rendesse conto che lui quest'anno ha cambiato posizione, che ha cambiato modo di giocare, che si sta adattando ad un ruolo completamente diverso il suo ruolo si vede in campo il suo posizionamento si vede in campo che è diverso forse posso dire che non capiscono di calcio quelli che lo hanno criticato è una risposta anche molto forte ricorda un po' Kolarov sì, sì, sì ricorda un po' Kolarov Sonia dai cerchiamo di strappargli più un sorriso andiamo su temi forse un po' più morbidi con Juraj sicuramente possiamo parlare in generale della stagione di questo Napoli che ormai verte tra campionato Europa League e Coppa Italia ecco io chiederei se pensa che c'è una possibilità di vincere qualche trofeo quest'anno allora traduco io the season of Napoli now is through Serie A Europa League and Coppa Italia Juraj in your opinion there is a chance to win some trophies for Napoli of course my opinion my opinion it's okay quite big chance okay win Italian Cup and with this team that they really can play final of the Europa League you know so it can be it can be really realistic ok nella sua idea ci sono grandi possibilità di vincere la Coppa Italia e anche di andare molto avanti di provare a vincere l'Europa League sì assolutamente ecco allora la Serie A non la menziona io mi sento di chiedergli qualcosa legata anche alla Serie A perché l'anno scorso è stata una lotta meravigliosa questa è un po' l'ultima domanda che facciamo al nostro ospite e Juraj Wenglosh perché il campionato italiano io non so se è visto dall'estero è diventato più noioso con l'arrivo di Cristiano Ronaldo è un po' questo che mi sto domandando se in effetti è un campionato che attrae quello italiano perché l'anno scorso è stato meraviglioso Juraj Italian Serie A see from a board with the domination of Juventus with Cristiano Ronaldo is an interesting championship in your opinion or this arrive of Cristiano Ronaldo take away the fascination for the fight for the first place look that the competition will be long and it will be so many matches and I don't think so that it will be only winning you know for Juve but it will be it will be more difficult match and as I said before some other clubs Napoli Roma Inter Milan and so on so which they will be they will be strong so I don't think so it will be not interesting of course Juve is strong it will be quite difficult to be not a champion but you know I will be of course only happy in case that Napoli will do it better as Juve but it will be very difficult but I don't think it's interesting and it's not it's interesting because it's Ronaldo it's only Juve in the Italian Serie A ok you're right thank you so much to stay with us we try to defend Marek that he's a Napoli legend and thank you so much to help us to do this ok thanks for calling bye 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 allora io ho detto che chiaramente abbiamo attraverso di lui provato a difendere quella che è una leggenda del Napoli che si chiama Marek Kamsik traduco l'ultima risposta che ci ha dato a proposito della della Serie A il campionato è lungo ci sono tante partite io non credo che la Juventus vincerà sempre ci ha detto Jurev Engloss sono partite molto difficili quelle che aspettano la Juventus in particolare quelle di ritorno con Napoli Roma Inter dove potrà perdere diversi punti la Juventus è chiaramente molto forte la favorita per il campionato ma non pensa che sia un campionato già chiuso ed è per questo motivo che la Serie A continua a conservare il suo fascino